la statica è il primo step valutativo quello che condiziona la vita di tutti i giorni essendo la base del movimento e il punto di partenza che determina tutti i gesti dinamici la pedana stability effettua una valutazione in orto statica cioè in piedi in ambito neuromotorio con test stabilometrici bipo e monopodalici su superficie stabile che hanno il fine di individuare le eventuali prime carenze posturali